Iris Film presenta Un Giorno della Vita Lasciatevi trasportare da questa storia emozionante La bugia è un peccato gravissimo Io non lo sapevo che erano soldi rubati Nella Basilicata del 1964 Tre bambini vivono un sogno straordinario Ti pare che non lo so? Dove sei andato? Andavano qui il bellissimo Di maciste Maria Grazia Cucinotta Alessandro Haber Ernesto Maillet Pascal Zullino Un Giorno della Vita Una piccola storia dalle grandi passioni A gennaio al cinema